fantastici è stato un crescente si credeva che dopo lo pensi dal vivo non ci sarebbe impensabile veramente come avete detto i DJ facciamo un applauso al nostro DJ Spazio fantastico, l'unico, vero, inimicabile, Videodj Videodj, questa sera, oltre alla musica siamo stati accompagnati dalle emozioni dell'immagine perché l'occhio vuole la sua parte Spazio lo sa si, si, ma è Sharona sulle sulle da sulle 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 Non ci si crede Ma la colpa è vostra Del vostro entusiasmo Che io devo essere andato via Due ore fa E invece sono ancora qui Non riesco a rincare via Grazie vostro ballo L'unico dispiacito del service Pensavo di fare il prezzo Massimiliano Massimiliano Pensavo di fare il prezzo Facciamo un applauso al nostro service Massimiliano Allora ciò sta fattorendo da te Ciao amore